Dicono ebbè ma adesso ci sono atleti come Morant o così è vero ma nel mio draft c'era Derrick Rose e Russell Westbrook che sono due scherzi della natura quindi gli atleti ci sono, ci sono, sono sempre stati magari adesso saltano un pelino di più sì, sì, però metti, sì non lo so, da quello che sembra Rose e Morant, però pensi a quello che faceva Rose guardi qualche video di Rose nel 2008 siamo lì secondo me